La Ginnastica Ritmica Per lontare in 10 anni mi sono trasferita ad Esio e ho iniziato a fare l'attività agonistica. Questo è il mio secondo mondiale, sono molto contenta di partecipare, non vedo l'ora di partire e di fare la gara e il mio obiettivo di quest'anno è riuscire a entrare nella finale 24 che l'anno scorso per due posti, per pochissimo non sono riuscita ad entrare. Il mio obiettivo primario è quello di arrivare alle Olimpiadi di Rio del 2016. Il mio obiettivo